Musica Tre spettatori ben ritrovati con l'informazione di Terediogene, la giunta regionale ha nominato i commissari per le aziende sanitarie provinciali e le aziende ospedaliere. Ne parliamo con l'assessore regionale Alfonso Dattolo. La giunta regionale in una seduta fiume iniziata ieri pomeriggio e conclusa in nottata a luna di questa notte, intorno alle 22.30 di ieri sera, ha nominato i commissari della sanità presso le aziende sanitarie e presso le aziende ospedaliere che erano scaduti. Ha sostituito i commissari scaduti, i direttori sanitari scaduti con commissari che durano sei mesi. Questa è la nota, tra questi scaduti c'era Crotone. Rocco Antonio Nostro è scaduto ormai da tantissimo tempo. Al suo posto è stata nominata Elgarizzo, che un po' di sangue del crotonese ce l'ha, ce l'ha perché la mamma, mi dicono che è originaria di Mesorà, che il padre è ai confini della provincia di Crotone, un paese della provincia di Crotone. Comunque andiamo nella nota ufficiale della giunta, che dice questo qua, che la giunta preseduta dal presidente facente funzione Antonio Nostro ha proceduto a nominare questi commissari. Resteranno in carica sei mesi, per il modo tale che poi chi subentra al governo della regione Calabria e chi vince la prossima competizione potrà nominare i propri direttori generali. Giovanni Paladino all'aspe di Catanzaro, Franco Sarica all'aspe di Reggio Calabria, Elgarizzo all'aspe di Crotone, mentre all'azienda ospedaliere di Cosenza è andata Filomena Panno, Vincenzo Tidri all'azienda ospedaliere Bianchi Malacrino di Morelli di Reggio, Mario Catalano all'azienda ospedaliere Pugliese Ciaccio di Catanzaro. La giunta ha inoltre preso atto delle dimissioni di Alessandro Moretti, da direttore dell'aspe di Cosenza. Nella nota si legge che questa è stata una scelta obbligata perché altrimenti avrebbero bloccato le attività. Allora torniamo a Crotone, quello che ci interessa ovviamente, in particolare ci interessa tutta la vicenda, ma in particolare quella di Crotone. È stata nominata Elgarizzo, responsabile di questa nomina e da quello che siamo riusciti ad apprendere, anche dagli ambienti giornalisti che seguono più da vicino queste vicende. Il responsabile di questa nomina è Alfonso Datto, l'assessore Alfonso Datto. Perché? Perché la proposta della giunta era un'altra. Era stata fatta una proposta di una persona più vicina al presidente dimissionario, Peppe Scopelliti. A questo punto però, da quello che ho appreso dai colleghi della stampa, ad opporsi a questa cosa è stato Alfonso Datto, che non è affatto una questione di bandiera, di partito, la premessa è fondamentale questa premessa. Cioè, si è opposto a quella nomina, si è fatto un nemico, Cangemi era la persona di Reggio Calabria, che era stato proposto per Crotone. Si è opposto e alla fine è passata una che magari, con l'UDC, con il partito di appartenenza di Alfonso Datto, non ha nulla a che dividere. Sì, sì, in effetti è così, ma ripeto, io penso che, a parte le origini crotonesi, Petilia, della famiglia della dottoressa Rizzo, non è questo il problema. Penso che sia una persona che per me diventa anche un motivo conoscere il territorio, essendo un'azienda provinciale, quindi è giusto, come dire, che ci sia una figura in grado di sapere dove si trova Petilia, dove si trova Pallagorio, Rocca di Neto, questo è un po'. E' importante pure la competenza, perché viene fatto il direttore generale all'azienda sanitaria Pugliese Ciaccio di Catanzaro, all'azienda ospedaliera. Tra l'altro, la dottoressa Rizzo è, nella graduatoria che abbiamo fatto degli aspiranti manager della sanità calabrese, ha avuto il secondo punteggio più alto in assoluto, con 92 punti. I requisiti, insomma, per fare... I requisiti, diciamo, una alla presentazione dei requisiti sviluppa un punteggio, quindi tra questo punteggio la dottoressa Rizzo è la seconda in assoluto. Poi una donna, anche questo bisogna dirlo, perché mi pare che ci sia tanta parte politica, professore, che faccia sempre professione di parità di genere, parità di genere, eccetera, però poi concretamente non dia spazio alle donne quando ne hanno l'opportunità. Quindi io invece vengo da una tradizione che mi vede impegnato nella valorizzazione del genere femminile, perché io le ritengo più pronte, anzi più in grado di agire, di mediare, di svolgere un'azione propositiva. E questo anche penso che sia positivo. Poi sul resto, diciamo, io non ne ho fatto una questione personale perché ho qualcosa contro il... No, infatti, infatti. Sia chiaro questo. Ma ritenevo... La battaglia politica c'è stata, insomma, anche all'interno del centro-destra. Ma, diciamo, battaglia politica, io ritengo che a volte si ragioni per opportunità. Io non riconosco nella dottoressa Rizzo una militante del mio partito, quindi la voglio preservare, diciamo, da ipotesi di colonizzazione politica, perché questo è quello che più mi preme, sottolineare che è una persona, diciamo, che gode di stima nell'ambiente e che in un'azienda come quella crotonese può lavorare bene e cercare di rilanciare l'azione amministrativa, anche se sono soltanto sei mesi, ma sicuramente alla, come dire, in esperienza di uno che sarebbe stato, diciamo, in pochi mesi difficile per lui operare, non avendo una conoscenza diretta, abbiamo preferito anche l'esperienza di uno... Avrebbe provocato anche molte polemiche, perché è il marito di una consigliera regionale. No, ma ripeto, non ne faccio una questione di cose, perché comunque nulla a questio sul... Se erano idoni entrambi, potevano entrambi fare questo ruolo, quindi chiusa questa parentesi, perché non voglio entrare in temi personalistici, voglio soltanto augurarmi che la dottoressa Rizzo svolgerà bene questo compito nell'interesse di un comparto, quella della sanità, che interessa soprattutto i cittadini, quindi siccome poi sono i cittadini che percepiscono l'efficienza e la funzionalità di un management, diciamo, io mi auguro che in questi mesi la dottoressa Rizzo possa far parlare in termini positivi di sé, cercando di rilanciare e soprattutto di risolvere le tante problematiche che ci sono all'interno della sanità provinciale crotonese. Questo è l'auspicio. Poi, ripeto, mi preme sottolineare che c'è stata anche una scelta di opportunità su questa cosa qui. È una donna, è una persona che ha, ripeto, un punteggio elevatissimo tra quelli che hanno fatto domanda per gli aspiranti manager e quindi, secondo me, può fare bene e soprattutto dare risposte alla sanità crotonese. Poi, ripeto, le beghe politiche o altre cose attengono a un'altra sfera. Io gliel'avevo detto nei giorni scorsi che ero per i commissariamenti e non per le nomine dei direttori generali perché pensiamo di non aver fatto un'azione per sistemare qualcuno per tre anni. Abbiamo dato una risposta a un'emergenza. Qui Crotone era decaduto e molte altre erano decadute. C'è una controversia tra le eventuali reggenze. Su questo siamo stati determinati nel voler dare una guida in maniera tale che, specie in una provincia come la nostra, dove c'è un centro di immigrazione, dove ci sono tante problematiche, dove ci sono carenze, eccetera, ci sia una figura responsabile, una figura di esperienza che possa rispondere alle problematiche della sanità crotonese. E queste nomine effettuate anche nonostante l'autolà imposto dal Ministero della Salute sono destinate a suscitare polemiche e ricorsi. Ci sono molte polemiche sulle nomine dei commissari alla sanità in Calabria, effettuati come abbiamo sentito ieri notte dalla Giunta regionale calabrese. Moltissime polemiche e molte ce ne saranno ancora. La prima a intervenire su queste nomine è la parlamentare, la deputata del Movimento 5 Stelle, Dalila Nesci, che in una nota scrive alla fine gli scopellitis hanno voluto dare l'ultima dimostrazione di forza nominando a notte fonda i commissari delle aziende della sanità calabrese in sostituzione dei direttori scaduti. Hanno voluto provare a loro stessi, si legge nella nota della Nesci, che contano ancora qualcosa. Dunque hanno agito spacciando la bugia dell'obbligo giuridico delle nomine e nascondendo la delibera della Giunta regionale del 2010 in cui sostenevano che tali provvedimenti spettavano solo al governo tramite il commissario per il rientro del debito sanitario. C'è un dettaglio importante secondo la Nesci, all'epoca il commissario era il governatore Giuseppe Scopelliti. C'è che cosa sostanzialmente questa parlamentare 5 Stelle che dice? Dice che la Giunta nel 2010 ha approvato una delibera in cui dice, con la quale afferma che le nomine devono essere fatte dal commissario, dal commissario per il piano di rientro. Il commissario in questo momento non c'è, era stato nominato Peppe Scopelliti, commissario per il piano di rientro, lui si è dimesso da presidente ed è decaduto anche da commissario, il governo nazionale avrebbe dovuto nominarlo ma non comprendiamo le ragioni di questo ritardo. Scopelliti si è dimesso il 3 giugno scorso, dal 3 giugno c'era tutto il tempo per nominare un commissario da parte del governo nazionale che ha questo compito, a cui spetta questo compito. Bene, non l'ha fatto. E allora in Calabria non si possono nominare nemmeno i commissari secondo questa legge, questa determina approvata dalla stessa Giunta regionale e quindi potrebbero non essere valide le nomine fatte. Su questa vicenda ne vedremo delle belle. A meno che in Calabria non è possibile fare le cose anche se non sono in linea con la legge e con la regola. E a proposito di sanità si prospettano complicazioni per chi frequenta il corso di studi per infermiere professionale presso l'azienda sanitaria provinciale di Crotone? Brutte novità per quanto riguarda i corsi per diventare infermieri, i corsi universitari per diventare infermieri. Anche per i ragazzi che si trovavano all'ultimo anno, quelli che si sono iscritti a Crotone e che sono stati ammessi a questo corso a Crotone. Allora l'Università di Catanzaro, l'Università Magna Grecia di Catanzaro che è titolare di questi corsi e rilascia il titolo di studio per esercitare la professione, ha chiesto soldi. Ha chiesto soldi per continuare a mantenere questi corsi a Crotone. Soldi l'azienda provinciale non ne ha, non ne hanno nemmeno la provincia e il comune della città capoluogo per cui se non si trovano fondi da qualche parte gli studenti dovranno seguire, dovranno ultimare gli studi per diventare infermieri a Catanzaro presso la sede dell'Università Magna Grecia. Oggi Rocco Antonio Nostro che sta completando le ultime questioni prima della consegna di tutte le carte al commissario Rizzo, farà un incontro per vedere se c'è qualche possibilità, ma le speranze sono minime. Soldi non ce ne sono. Intervenire con la massima urgenza per arginare gli effetti della cosiddetta lingua blu, la malattia dei ruminanti, lo chiede il capogruppo PD in Commissione Agricoltura alla Camera Nicodemo Oliverio che in merito all'emergenza registrata in Calabria ha sollecitato il Ministro della Salute Beatrice Lorenzina a predisporre un piano di interventi tempestivi per affronteggiare il virus. Sono sempre più vicine le elezioni per la nuova giunta provinciale di Crotone e il punto di Gaetano Megna. Ieri sera si sono concluse le consultazioni del centro-sinistra per la scelta del candidato a Presidente. Non è uscito un nome all'unanimità a stragrande maggioranza, anche se il nome più indicato da coloro i quali si sono sottoposti a questa consultazione è stato quello del sindaco di Crotone e Peppino Vallone. Poi è seguito quello di Amedeo Nicolazzi, Giancarlo Devona, Carmine Maio, il sindaco di Carfizzi, Devone del capogruppo del PD in Consiglio Comunale, Nicolazzi è il sindaco di Patria Policastro e Murgi è il sindaco di Mielissa. Quindi non c'è stata un'indicazione bella netta e precisa su un nome. I più votati sono stati questi cinque, gli unici votati sono stati questi cinque nomi per cui adesso il segretario provinciale non avendo avuto, diciamo che solo su Vallone c'è stata un pochino in più qualcosa di più rispetto agli altri, intende andare avanti nella sua attività. Domani intende sentire i parlamentari Nicodemo Leverio e Nico Stumpo e il consiglio regionale Francesco Sulla e sabato intende convocare l'assemblea del partito e demandare all'assemblea del partito una scelta così importante. Perché fa questo? Perché non viene subito indicato l'impegno preso era stato quello di fare le consultazioni e indicare subito il no? Perché non lo fanno? Perché non si vogliono creare rotture all'interno del partito democratico, indicare un nome piuttosto che un altro, un nome di unità potrebbe essere quello di Vallone, va bene, in quanto sindaco della città, perché Vallone è stato indicato in quanto sindaco della città capoluogo e in altre città dove anche nel centro-destra dove ci sono state queste cose, le indicazioni sono stati indicati i sindaci. Quindi Vallone è stato indicato in quanto sindaco della città capoluogo. Allora si cerca di creare meno trauma possibile per evitare che la spaccatura all'interno del PD possa favorire il centro-destra. Sarebbe la bocciatura della classe dirigente del PD e di tutti i consiglieri comunali eletti nelle liste del PD perché la gente non c'entra. Questa consultazione, il voto per il rinnovo degli organismi provinciali è demandato esclusivamente ai consiglieri comunali e ai sindaci che sono consiglieri comunali eletti in tutti i 27 comuni della provincia di Crotone. Anche il centro-destra si sta muovendo. È stata convocata una nuova riunione da parte del presidente Stano Zurlo, ha invitato tutti i segretari del centro-destra. Un'altra riunione per vedere se si trova una convergenza. Sapendo che Forza Italia ha già pronta una propria lista e che non è molto avvezza a fare altri accordi. Perché la provincia di Crotone, soprattutto con il nuovo centro-destra, perché la provincia di Crotone fino all'estate governata esclusivamente dal nuovo centro-destra e Forza Italia sarebbe stata, a parere di alcuni dirigenti di Forza Italia, sarebbe stata penalizzata dalle scelte fatte da Zurlo. L'aeroporto è necessario in un territorio come il nostro e oggi siamo impegnati per fare in modo che alla data del 31 ottobre siamo pronti e con gli atti amministrativi e tutte le carte in regola per presentarci all'appuntamento con il cosiddetto piano concordatario. Questo in sintesi, l'impegno scaturito dalla riunione tenutersi ieri mattina presso la presidenza della provincia di Crotone, all'incontro presieduto da Stano Zurlo, hanno partecipato i sindaci di Crotone, Isola Caporizzuto, Cutro, Strongoli, Crucoli e Melissa. Si tratta dei comuni della fascia costiera interessati all'erogazione delle royalties e che hanno qualche tempo addietro deciso di devolvere l'8% di queste provvidenze proprio alla società di gestione dello scala aeroportuale. Ed il presidente della provincia di Crotone, Stano Zurlo, ha firmato ieri mattina il contratto di comodato d'uso gratuito con il quale l'ente intermedio concede al comune di Crucoli la gestione di una struttura. Si tratta del centro polifunzionale sito in località Piana Grande della frazione Torretta del comune di Crucoli, una struttura che sarà utilizzata per privilegiare l'esercizio delle pratiche sportive e motorie. Il Partito Democratico Crotonese interviene a tutela dell'utenza Suacro. Sentiamo. La segreteria cittadina del PD crotonese ha diffuso un comunicato riguardante la Suacro, la società che gestisce l'acqua, ma non per parlare dei disservizi che ci sono stati, che ci potrebbero essere, ma per parlare del trasferimento della sede qui dalla zona dal centro cittadino al centro del granaio al fondo Gesù. Perché questa, secondo quello che scrive appunto il Circo Cittadino, questa cosa sta creando grandi disagi. Sì, allora intanto noi abbiamo divamato questa nota stampa a seguito di lamentele e di sollecitazioni che ci sono arrivate direttamente dai cittadini presso la nostra sede. In realtà avevamo già saputo della chiusura degli uffici di front office di Italgas che erano a Via Roma e ci stavamo già interessando per fare una mappatura in città di tutte le società che erogano servizi per capire se Crotonese in questo momento, oltre alla crisi economica, sta subendo anche una diminuzione dei servizi ai cittadini. Chiaramente sul Suacro noi arriviamo a questa segnalazione per input esterno. Non entriamo nel merito della scelta del trasferimento dei locali che chiaramente è una scelta della società e capiamo anche che in un momento di trasloco bisogna occuparsi di cose importanti però non vanno lasciate indietro le informazioni perché per esempio noi ci siamo trovati di fronte a cittadini che da Farina arrivano con l'autobus in centro per poi scoprire che sono arrivati nell'ufficio sbagliato. Allora noi non andiamo contro Suacro ma diciamo a Suacro gli attivarsi... Manca la scelta di portarli fuori dal centro cittadino perché dalla periferia al centro è facile arrivarci ma dal centro alla periferia diventa difficile. Voglio dire uno che abita al Carmine che deve andare al Gesù oppure uno che abita a Farina che deve andare al Gesù diventa un problema più serio. Uno che abita a Savelli per allargare un po' l'orizzonte. Ma è chiaro che in questo momento probabilmente perché bisogna essere onesti intellettualmente cioè la scelta della nuova sede è una scelta che compete alla società. E' probabile che in questo momento per l'agenio economico o di utilità interna all'ufficio quella era la sede migliore. Questo non toglie però che i cittadini abbiano diritto ad essere garantiti in quelli che sono anche le informazioni, che sono un diritto presencito per legge. Chiaramente nel momento in cui lei mi sollecita anche un altro problema cioè non ci sono solo i cittadini di Cotone ci sono anche quelli del territorio che magari hanno una conoscenza meno approfondita della città. Allora è probabile che questo porti dei disservizi. Bastava andare sulla stampa anche senza acquistare una pagina ma diffondendo anche tramite la sua emittente che è molto seguita il messaggio e avremmo ovviato il problema. Faccio una precisazione. La segreteria cittadina sta seguendo con molta attenzione quello che avviene in suo acro. Noi abbiamo già avuto delle riunioni di segreteria sollecitate dall'avvocato Tricoli che sta seguendo insieme a noi come componente di segreteria questa situazione e anche dal segretario Contrino che chiaramente come segretario sta mappando sia la situazione di suo acro che come le dicevo prima quelle dei servizi più in generale. Quindi noi siamo molto attenti. Chiediamo anche all'amministrazione comunale che è un socio di suo acro di iniziare a porre il problema alla società di come vengono erogati i servizi del costo delle bollette e soprattutto di come il rapporto tra la società gestore del servizio e le amministrazioni che partecipano alla società si sta svolgendo. Perché non ci sembra molto propositivo. Al via oggi un nuovo cantiere nell'ambito del programma di riqualificazione dei quartieri promosso dall'amministrazione Vallone. L'area interessata dagli interventi è in località Fratelli Bandiera lo comunica l'assessore comunale di Crotone ai lavori pubblici Emilio Candillota. Un intervento di 100.000 euro destinato alla riqualificazione di 6 arterie viarie della zona via Villa Sava, via delle Camelie, via Percorso del Sole, via Percorso Natura, via Beata Savina e via delle Petunie. Stamane presso il Museo Civico del Castello Carlo V di Crotone presentazione delle iniziative per la giornata europea del patrimonio culturale nel corso di una conferenza stampa in cui è intervenuta l'assessore comunale di Crotone alla cultura. Antonella Giungata. Le giornate europee del patrimonio. Le giornate europee del patrimonio, come sapete bene, sono organizzate dal Ministero. La giornata europea del patrimonio culturale. Ci sono iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale di Crotone per questa giornata che... La giornata è il 20 settembre e il Comune di Crotone aderisce ad un sollecito fatto dal Presidente del Lanci Nazionale, da Piero Fassino, che invita i sindaci e gli assessori alla cultura ad aderire anche loro, oltre al Ministero, alle giornate europee del patrimonio. In sostanza in quella giornata tutti i musei statali resteranno aperti fino a mezzanotte. Noi ci accoderemo ai musei statali e terremo aperto per l'occasione il Castello di Carlo V e il Museo Civico fino a mezzanotte, così che la gente potrà goderli fino a tarda ora. 20 settembre e sabato. Quindi nella notte di sabato, 20 settembre, la gente può andare a visitare il Museo Nazionale di Archeologia, e poi venire sul castello e visitare anche il Museo Comunale. Visita del Castello, il Museo, e in più noi abbiamo tentato di fare cosa gradita ai nostri concittadini, mettendo in scena una rappresentazione teatrale, che sarà a cura del Teatro della Maruca con Carlo Gallo, e sarà a Bollari, Memorie dell'Oionio, questi racconti raccolti di pescatori antichi sulla pratica della pesca del tonno nei mari di Crotone. A che ora è la rappresentazione? Alle 21 e 30. Sempre all'interno del castello, nel teatro, alle spalle del Museo Civico, dove c'è uno scenario che si presta proprio alla rappresentazione. Ed è gratuito, lo diciamo per i cittadini, non si paga. Col porto alle spalle, è proprio la location ideale per fare Pollari. Una location meravigliosa. Sì, sì. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Belvedere Spinello hanno arrestato Guinea Luminita, badante di 48 anni di origine rumena, per furto aggravato. I militari, mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono stati allertati dalla proprietà di una gioielleria a sita nel centro di Belvedere, la quale si era appena accorta di non avere più alcuni preziosi che poco prima aveva mostrato ad una donna di origine rumena che si era presentata presso l'esercizio commerciale quale possibile cliente. I carabinieri, dopo aver ascoltato la descrizione sommaria della donna, grazie alla capillare conoscenza del territorio, hanno individuato la donna e a seguito di perquisizione domiciliare hanno scoperto all'interno di una sua borsa, nascosti in una tasca laterale, i due anelli d'oro precedentemente sottratti alla gioielleria. Riapre domani uno dei supermercati nel centro di Crotone dell'imprenditore Pristerà. Giovanni Pristerà è figlio d'arte e figlio di Franco Pristerà, imprenditore in questo momento in difficoltà, alla guida dell'azienda di famiglia è subentrato Giovanni, più giovane, con più verve, con spirito nuovo e vuole riprendere a dove il padre ha lasciato. Salve, allora ripartiamo da dove avevamo lasciato con un nuovo marchio, adesso siamo d'Espero, non siamo più PAM, quindi ripartiremo più forti di prima perché abbiamo dei prezzi più bassi e inoltre punteremo molto sulle offerte, spingerò molto sulle offerte. Quindi che significa ripartiamo da dove abbiamo lasciato? Quanti supermercati in città riaprite e quando? Allora, stiamo riprendo 5, domani apriamo Nazione Unita e quello a Faria, via Nazione Unita, ex superstore, adesso si chiamerà Eurospar e dopodiché a ruota apriamo gli altri, inizieremo dal Granaio, via Roma, Piazzetta e quello a via Cotro, Giovanni Paolo. E si chiamerà Despar? Sì, sempre Despar, il marchio è Despar. Non sarà più il marchio PAM, quindi ci saranno nuove offerte? Sì, nuove offerte, sono anche nuove referenze perché abbiamo prodotto a marchio Despar e poi abbiamo introdotto anche una linea di premi e prezzo, S-Budget, che saranno evidenziati poi nel punto vendita. Che significa, tradotto per la massaia che ci sta? Saranno prezzi bassi, diciamo prezzi discount, che saranno prezzi accessibili a tutti. Con prodotti di qualità? Sì, prodotti di qualità, questo che ci differenzia rispetto agli altri. Contiamo sempre la qualità però cercando di far risparmiare... In personale, avete fatto accordi con il sindacato? Sì, abbiamo fatto gli accordi con il sindacato e quindi stiamo assumendo in base all'accordo che abbiamo stipulato con il sindacato. State riassumendo? Sì, riassumeremo 100 persone per il momento, poi sperando che le cose andano bene... Ma sicuramente andranno bene. Speriamo di sì. La popolazione di Crotone vi ha voluto bene, diciamo la verità. Avete avuto problemi, la città vi ha voluto bene e continuiamo a volervi bene. Sì, questo è il nostro augurio, poi non abbiamo mai avuto problemi, diciamo con i clienti, abbiamo cercato di accontentarli sempre in tutto, ci sono stati sempre fedeli. Fra tanta partecipazione e commozione si sono celebrati ieri presso la chiesa di Santa Rita i funerali di Marco Panaia, il giovane sub crotonese di 24 anni che ha perso la vita nel corso di un'immersione subacquea nelle acque antistanti Capocolonna nel pomeriggio di giovedì scorso. I genitori di Marco Panaia hanno inteso attraverso la nostra emittente porgere il loro più sentito ringraziamento nei confronti di tutti coloro i quali istituzioni e volontari per cinque giorni si sono prodigati nella ricerca del corpo del loro amato figlio corpo che, come è noto, lunedì mattina è riemerso da solo. che è una pace di un'amb shortagesi di tutti colori sono e non ammigliate телa di bisogno evitato il totale. Accoglierli e la sua mamma, grazie a tutti... Grazie a tutti. Grazie a tutti. La Proloco di Strongoli cerca studenti universitari iscritti all'Università della Calabria di Arcavacata interessati a svolgere una tesi di laurea sperimentale nell'ambito del turismo nel territorio compreso tra Puntalice e Foce del Fiume Neto. Chiunque fosse interessato può contattare il presidente della Proloco di Strongoli, Sergio Bruno, a riecapito cellulare 320-6957-066. Sereno, visibilità ottima e vento di 12 nodi, il tempo previsto per domani su Crutone e Provincio, vediamo il bollettino nautico del Marrionio, tempo vento da nord a Forza 4 con locali rinforzi, isolati temporali, miglioramento, visibilità discreta, localmente cattiva, mare mosso. Tendenza, vento da nord a Forza 4, sereno o poco nuvoloso. Bene, io ho terminato, grazie per essere stati con noi. Arrivederci alle prossime edizioni. Grazie a tutti.